Un operaio di 30 anni è precipitato da circa 10 metri mentre stava effettuando lavori di manutenzione al viadotto dell'A14 nel territorio comunale di San Vito Chietino. L'allarme è stato dato immediatamente, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Santo Spirito di Pescara. L'operaio era imbracato e questo ha ridotto la gravità dei traumi che non sono rilevanti secondo i primi accertamenti svolti dai carabinieri.